Ed è la storia horror di una liceale al centro del libro Madness, scritto da Alessia Francavilla e presentato nel corso dell'undicesima edizione di libri nel Borgo Antico, la rassegna ospitata dalla città di Biceglie, dedicata alla lettura. L'intervista è di Francesco Rossi. A 17 anni debuta con un romanzo, Madness, anche un thriller. Questo è il mio primo romanzo, che ho iniziato a scrivere quando avevo 13 anni e adesso ne ho 17. Ecco, perché questa passione per la scrittura? Io scrivo sin da tenere età e l'ho sempre considerato un passatempo da tenere soltanto per me, però poi pubblicando su una piattaforma online e ricevendo tante visualizzazioni e tanti commenti positivi, ho capito che era il caso di parlarne con qualcuno di questa mia passione ed è diventata un libro. Chi ti ha consigliato, chi ti ha invogliato a scrivere, chi ti ha accompagnato in questa attività? Innanzitutto i miei lettori, perché leggevano giornalmente e mi chiedevano di pubblicarli in forma cartacea e poi quando ne ho parlato con i miei genitori erano entusiasti e volevano che io pubblicassi questo libro, ci tenevano. Un thriller significa aver letto già tanti altri libri perché la costruzione di un thriller è molto particolare? Sì, ho letto diversi libri e posso dire che il mio autore preferito di thriller, horror è Stephen King e infatti lo considero come un maestro e ringrazio lui e i suoi libri perché mi hanno aiutato tanto in questo percorso. Senza raccontarci il finale, ci puoi dire di che cosa parla? Sì, è ispirato a una creepypasta, cioè una leggenda metropolitana americana già popolare sul web. Jeff the Killer è un assassino che prova piacere nell'uccidere le sue vittime, ma un giorno decide di lasciarne in vita una per errore. Penendosi di questo suo errore decide di rapirla e questa ragazza studia psicologia e ha la convinzione di poterlo salvare e quando nota dei cambiamenti in lui purtroppo il suo passato ritorna e incombe su di lui ed imitabilmente anche su di lei.